Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. È novembre del 1989, ci troviamo nel quartiere alberato di Lake Highlands, nel nord-est di Dallas, in Texas. Nell'area si inizia leggermente a percepire uno strano odore, è nauseante, ricorda il tanfo dei rifiuti in putrefazione, ma occorrono cinque settimane prima che qualcuno se ne accorga. Proprio nei giorni successivi alla festa del ringraziamento, quell'odore inizia a diffondersi più intensamente. Proviene dalla casa di David e Glenda Goodman, ormai incapaci di contenere ancora il terribile segreto che li riguarda. Quando i vigili del fuoco sfondano la porta d'ingresso, il fetore si riversa in strada come un fiume che straripa. Due dei soccorritori sono costretti a fermarsi perché appena sentono la puzza, iniziano ad accusare incontrollabili conati di vomito e si precipitano sul prato antistante per rigurgitare. Dopo essersi in parte ripresi, decidono di indossare delle maschere antigas. Poi entrano in casa dove sono accolti da piccole presenze inquietanti. Ci sono migliaia di mosche che ronzano nell'aria densa. Altri insetti morti sono disseminati sul pavimento e sembra che formino un sentiero. I soccorritori lo seguono e giungono sul retro della casa dove l'ex professore di economia della Southern Methodist University e sua moglie, entrambi di 48 anni, avevano trasformato il garage in una specie di salottino. In circostanze normali, quello sarebbe sembrato un luogo accogliente dove trascolere quel soleggiato sabato pomeriggio. C'è un divano bianco imbottito e rivestito con un'allegra stampa floreale posizionato di fronte a un attivo a colori. Un paio di poltrone reclinabili in pelle bianca affiancheggiano il divano. La morbida mochetta azzurra luccica. Le tende, scelte con particolare cura, sono aperte. La stanza è inondata della luce che proviene dal piccolo cortile recintato sul retro. Ma queste non sono circostanze normali e presto scoprirete perché. Un angolo della stanza è stato allestito come a riprodurre un tiro a segno in miniatura. Un supporto di metallo regge un bersaglio di carta. Due pistole a pallini sono appoggiate su un congelatore a pozzetto. Sul tavolino da caffè, davanti al divano, c'è una scatola di proiettili ad alta velocità Remington e un manuale sull'utilizzo di una pistola semi-automatica Ruger modello Mark II. Davanti al tavolino, disposti vicini su un tappeto, giacciono i cadaveri dei coniugi Goodman. La Ruger si trova accanto al corpo di David. Vicino a Glenda c'è un revolver calibro 22. Entrambi sono stati colpiti una sola volta e la pistola era stata puntata contro il cranio. Le loro morti risalgono a più di un mese prima. Poiché la porta di casa era chiusa a chiave e dentro non mancava nulla, la polizia e i medici legali concludono che i Goodman avevano scelto di eseguire un rituale di doppia morte. Ossia si erano sparati l'un l'altro, oppure uno dei due aveva sparato all'altro e poi si era suicidato. Forse avevano concordato un segnale con cui dare avvio agli atti fatali. Ai loro piedi è presente una sveglia, ma per chi avevano deciso di farla finita? Per gli estranei i Goodman possedevano tutto. David aveva condotto un brillante dottorato di ricerca all'università di Yale, ma aveva lasciato una cattedra di ruolo per realizzare il suo sogno, essere il capo di se stesso. Era diventato un consulente per gli investimenti e Glenda, figlia di un medico di North Dallas, scriveva lettere e teneva i libri contabili per la fiorente attività del marito. Entrambi avevano alle spalle dei matrimoni falliti, tre per David e uno per Glenda. Ma sembrava che finalmente avessero incontrato la propria anima gemella. I due erano inseparabili. Apparivano come estasiati dalla reciproca compagnia. Ciò che gli estranei non sanno e nemmeno i parenti stretti è che i Goodman avevano intrapreso un viaggio spirituale bizzarro e agonizzante. Come milioni di viaggiatori in New Age, David e Glenda erano partiti alla ricerca dell'illuminazione. E in effetti il loro viaggio fu molto particolare. Ebbero visioni del regno Viola, un regno fatto di templi e stagni scintillanti. Appresero che in origine si erano incarnati come Adamo ed Eva, che poi avevano vissuto 800.000 vite e che ora non erano più David e Glenda, ma Giove e Venere, il dio e la dea romani. Ma alla fine i Goodman si erano ritrovati su un sentiero oscuro e solitario. Avevano condotto una battaglia letale contro i malvagi signori neri, ergendo scudi metafisici per proteggersi dai pericoli. Per dimostrare la grandezza della loro fede, avevano interrotti i contatti con i loro genitori e con i loro figli. Temevano infatti di essere contagiati da energie negative. Glenda però aveva scritto della sua agonia in una lettera mai spedita al figlio. La polizia la recupera da un cestino per la spazzatura posto sotto a una scrivania. Glenda scriveva Agli investigatori la ricerca da parte di David e Glenda del coraggio per andare incontro alla morte sembra piuttosto spontanea. Non trovano nessun biglietto da dio o testamento, ma non si esclude che possano nascondersi tra i loro effetti personali. Inoltre Glenda e David non avevano più comprato del cibo per sfamare i loro due cani che ormai da settimane si aggiravano nel cortile sul retro. I diari scritti a mano da David e Glenda esaminati dagli investigatori suggeriscono che i coniugi avevano pianificato la loro morte per mesi. Si erano puntati le pistole alla testa per seguire quelle che consideravano istruzioni dirette di dio. Il dio a cui parlavano ormai decideva ogni dettaglio della vita quotidiana dei Goodman, persino quali tende dovevano comprare, ma soprattutto aveva il suo emissario terrestre, una guru spirituale di Dallas di 52 anni di nome Terry Lee Hoffman. Se David e Glenda Goodman avevano aperto un vaso di Pandora, era stata Terry Hoffman a consegnare loro la chiave. Grazie a Terry si erano conosciuti, innamorati e sposati. Terry li aveva instradati affinché entrassero nel suo ambiguo gruppo New Age che alla fine li aveva consumati. Terry inoltre aveva fornito loro le note pilole bianche che alterano la mente. Secondo lei aiutavano a trascendere i loro corpi fisici per riuscire a raggiungere il mondo spirituale. Ho riflettuto a lungo su cosa potessero essere queste pilole bianche, secondo me non erano una sostanza legale, ma andiamo avanti. Glenda scriveva nel diario che era grazie a Terry, se si era arricchita seguendo le istruzioni di Dio, il patto del 50-50 con Dio. Così lo aveva definito in quelle pagine. Quel patto però aveva ad oggetto uno scambio della natura piuttosto terrena, materiale, infatti per accedere al mondo spirituale i coniugi avrebbero dovuto devolvere a Terry metà dei loro guadagni percepiti in futuro. Prima della loro morte i Goodman avevano dato a Terry e Hoffman tutti i loro soldi, ossia più di 110.000 dollari. Quei soldi erano il motore per accelerare all'infinito il processo per raggiungere e risvegliare le anime. Di certo David e Glenda non erano stati i primi a entrare in questo gruppo e a donare dei soldi alla leader. Tra i seguaci di Dallas, di Terry, si contano otto vite giunte a una fine prematura. Cinque di queste vittime, inclusi due dei suoi quattro mariti, si sono suicidati. Le altre tre vittime sono morte in incidenti improvvisi. Come i Goodman, la maggior parte dei devoti aveva provato un enorme dolore e un'angoscia insopportabile prima di morire. Eppure, tutti e otto intendevano rendere Terry Hoffman la beneficiaria della loro ricchezza terrena, in vita o in morte. I seguaci di Terry Hoffman e la sua organizzazione chiamata Sviluppo Consapevole di Corpo, Mente e Anima affermano che la leader parlava a lungo con le persone emotivamente turbate che erano inclini a togliersi la vita. I suoi seguaci le lasciavano soldi e proprietà proprio come farebbero i devoti fedeli di una chiesa tradizionale. Ma due dei figliastri di Terry, il figlio e la figlia del suo defunto marito Richard Donald Hoffman, a marzo del 1989 intentano una causa contro di lei. L'accusano di aver causato o contribuito a una serie di morti attraverso l'ipnosi, la modificazione del comportamento, il controllo mentale e la manipolazione delle emozioni. Il motivo, secondo i promotori dell'azione giudiziaria, è il profitto o guadagno di materiale che consacra il ruolo dell'autoproclamata guru Terry Hoffman. Nel gennaio del 1990, sulla scena delle notizie sulla morte dei Goodman e temendo il terribile schema tracciato da Terry Hoffman, l'ufficio del procuratore distrettuale di Dallas avvia un'indagine penale. Fatta eccezione per brevi commenti rilasciati ai giornalisti, Terry rimane per lo più in silenzio. Rifiuta diverse richieste di interviste. Il suo avvocato di Dallas, Fred Time, sostiene che la sua cliente è la vittima innocente di una caccia alle streghe e di un ingiusto processo da parte dei media. Sembra avere il dono di consigliare le persone, è una persona molto amorevole ed è una potente leader spirituale, ritengono molti dei suoi seguaci e il suo avvocato. L'enigma di Terry Hoffman è al centro del triste destino di David e Glenda Goodman e di altre persone che hanno abbracciato i suoi insegnamenti. Questa donna può davvero essere considerata una consigliera amorevole e compassionevole di anime tormentate? O è più indicato definirla come una guru della morte? Facciamo un passo indietro per parlare di Sandy Clever. Era il giugno del 1977 e Sandy era andata da Terry per entrare in contatto con la guida spirituale insieme all'uomo che frequentava, Lynn Fairchild. Come molti dei seguaci di Terry, Sandy di solito registrava le conversazioni durante le varie consultazioni, in modo da poter assimilare meglio la saggezza della guru riascoltandola. Anni dopo le registrazioni rivelano come i seguaci di Terry si siano completamente immersi nel suo universo soprannaturale e come lei abbia dominato le loro vite nei minimi dettagli. Diventerai una rivelatrice, dice Terry a Sandy Clever, durante uno dei loro ritrovi spirituali. Come Terry raccontava spesso ai suoi seguaci, le era stato concesso di visitare la biblioteca psichica, dove coloro che sono spiritualmente evoluti possono leggere il passato e il futuro come se sfogliassero un giornale. La notizia di avere un destino come rivelatrice è esaltante per Sandy. Gesù è il rivelatore supremo del suo tempo e, ora che sa di essere una rivelatrice, anche lei deve trascorrere ancora più tempo con Terry. Inizialmente Terry aveva avuto da ridire sulla relazione tra Sandy e Lynn Fairchild. Erano destinati l'uno all'altra? Il loro coinvolgimento avrebbe interferito con il loro sviluppo spirituale? Purtroppo Sandy e Lynn non erano anime gemelle, almeno non nella vita terrena, aveva spiegato Terry. Entrambi erano destinati, nelle vite future, a diventare signori di pianeti separati, ognuno con un partner diverso al proprio fianco. Durante il loro passaggio sulla Terra, sosteneva Terry, Sandy e Lynn erano destinati a rimanere felici e single. Sandy, che era divorziata, non sembrava contenta di questa rivelazione. Qual è lo scopo di essere una persona single e felice? Chiese. Per trasudare energie e per poter inviare energie agli altri? Spiegò Terry. Se vivessero assieme o si sposassero, potrebbero distrarsi a vicenda dai loro studi spirituali e produrre turbamenti cosmici? Concluse la donna. Sandy si chiede quali fossero i confini del loro legame. Quanto lontano potremmo andare? Conosci le cose specifiche che dovremmo fare e non fare? Chiese. Terry riflette per un momento, poi disse. Vorrei vedere prima cosa da dire Marcus. Allora, Marcus era un maestro, uno dei dodici saggi spiriti guida, incluso Gesù Cristo, che apparivano periodicamente sulla Terra per offrire consigli ai devoti. A differenza della maggior parte delle persone, Terry poteva vederli e sentirli. Improvvisamente non c'era più bisogno di aspettare. Marcus è qui, dichiarò Terry. Quindi andrò avanti e vedrò cosa da dire. Digli grazie per essere venuto, disse Lynn. Sull'argomento, Marcus fu schietto. Dice che avete passato un sacco di tempo insieme, raccontò Terry. Dice che dovete decidere quando termina il divertimento e inizia il lavoro, il dovere. Marcus voleva che si concentrassero sulla diffusione del Vangelo, dello sviluppo consapevole. Spiego Terry. Dice che presto inizieranno ad arrivare energie che cambieranno le cose. Se non avremo lo sviluppo consapevole a cui rivolgerci in tutto il paese, ci sarà la possibilità di poter incorrere nel karma. Il karma è pericoloso, inaspettato. Dobbiamo ottenere lo sviluppo consapevole per batterlo. Eppure, a dirla tutta, è difficile immaginare un messaggero di Dio più improbabile di questa leader. Terry Hoffman è una donna bassa con i capelli neri. Il suo viso sembra quasi infantile. È tornito e privo di rughe. Non sembra rivelare astuzie. I suoi occhi scuri brillano da dietro gli occhiali. Le sue labbra sottili spesso si dispiegano in un dolce sorriso. Quando i seguaci arrivano per un consulto personale a North Dallas, nella casa di Terry, in gombra di oggetti donati dai numerosi devoti, lei spesso li saluta con un abbraccio. Non riesco a immaginare Terry come malvagia e manipolatrice, dice una credente. Con i suoi seguaci Terry si vanta dei suoi poteri. Può vedere il passato e il futuro, proteggere le persone, anche da incidenti automobilistici e dal cancro. E può addirittura comunicare con i morti. Ma come si erano manifestati la sua vocazione e i suoi poteri? Terry era nata nel 1938 e raccontò che aveva solo tre anni e mezzo e viveva a Fort Stockton, sempre in Texas, quando tre dei maestri le apparvero per la prima volta in una visione con l'intento di istruirla. Venivano periodicamente, spiegò Terry. Le insegnarono a sbloccare le sue abilità speciali, dicendole che attraverso Dio e la meditazione avrebbe potuto fare qualsiasi cosa se lo avesse voluto abbastanza. Quella però era una previsione che non trovava corrispondenza nella sua vita terrena. La famiglia di Terry era povera, una sorella era nata morta e sua madre stava morendo di tubercolosi. All'età di nove anni Terry venne mandata in un orfanatrofio luterano a Round Rock, dove le visioni le apparvero di nuovo. Disse che a quel punto aveva appreso di essere la reincarnazione di Santa Teresa d'Avilia. Suora spagnola del XVI secolo, Santa Teresa fu una delle mistiche più importanti della Chiesa Cattolica. Ebbe visioni delle tre persone divine della Santissima Trinità e credeva fermamente che il Regno dei Cieli potesse essere visitato come le stanze di un castello. All'età di undici anni la discendente della Santa fu adottata da un impiegato di una compagnia petrolifera di Dallas e da sua moglie. Venne ribattezzata Terry Lee Benson e rimase con la sua nuova famiglia soltanto per quattro anni. Un mese dopo aver compiuto quindici anni, Terry scappò a Durant in Oklahoma per sposarsi. Il suo primo marito era un camionista diciottenne di nome John Ray Wilder. Per ottenere la licenza di matrimonio, sia Terry che John mentirono sulla loro età, aumentandola di tre anni. Tornarono a Dallas dove Terry, presto incinta, abbandonò la scuola superiore. Sua figlia Kathy nacque nel 1954, mentre Kenneth venne al mondo nel 1958, infine nel 1963 nacque Virginia. La famiglia Wilder si trasferì in una fattoria nel sud della contea di Dallas. John sostenne la famiglia trovando un lavoro come guidatore di autocarri, mentre Terry rimase a casa con i bambini. Con un sacco di tempo a disposizione, la giovane madre iniziò a dilettarsi nell'occulto. All'inizio leggeva libri per corrispondenza sull'ipnotismo e gli scritti del sensitivo Edgar Kais. Inoltre, chiacchierava con altre casalinghe sul significato della vita. Poi, Terry iniziò a prendere delle lezioni di ipnosi. Verso la fine degli anni 70, dopo che i Wilder si trasferirono nel soborgo di Farms Branch, a North Dallas, Terry teneva lezioni settimanali di meditazione serale. Creò un nuovo gruppo chiamato per l'appunto sviluppo consapevole di corpo, mente e anima e diede il via alle sue sedute. Durante il primo incontro disse a tutti i presenti, questa è la vostra prima lezione, si parte dal primo grado e della lezione numero uno. Fece una breve pausa osservando ogni partecipante, poi continuò con voce sicura. Le nozioni che imparerete sono vostre e sono speciali, poiché la conoscenza contenuta in esse è sacra, segreta e misteriosa. Queste informazioni sono state custodite con cura fin dai tempi antichi, poiché la conoscenza conferisce potere a chi la possiede. Essendo esposti agli insegnamenti dei maestri, non solo diventerete consapevoli delle verità che gli altri raramente possiedono, ma imparerete anche come usare e controllare le energie che pochi hanno padroneggiato. Uno degli insegnamenti trasmessi riguardava l'interpretazione della legge del karma, la nozione hindu di causa ed effetto, principio secondo il quale ogni azione che compiamo non è mai un atto isolato, ma si riflette in conseguenze che coinvolgono anche gli altri. Terry spiegò che il comportamento ottenuto sulla Terra, il regno fisico, avrebbe influenzato le prospettive di reincarnazione in un regno spirituale superiore. Coloro che pativano delle disgrazie, in realtà stavano subendo le conseguenze delle cattive azioni compiute nelle vite precedenti, in breve stavano vivendo ciò che meritavano. Peggiori erano le azioni commesse e peggiore sarebbe stata la condanna. Magari avrebbe previsto la reincarnazione in un topo o in uno scarafaggio. Nel mondo di Terry il confine tra la vita e la morte viene varicato. Diventerete anche consapevoli della continuità della vita, spiegò. La morte quindi non esisterà nella realtà perché vi renderete conto che la vostra esistenza non dipende dal mero mantenimento del vostro corpo fisico. Il risultato di una nobile morte è la rinascita. Ora io lo so che a questo punto vi starete chiedendo ma quante supercazzo le sto sentendo? Siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio signore e signore perché questa storia è assurda. Ma procediamo. Era essenziale per un individuo lottare per conquistare l'equilibrio. Più precisamente bisognava ottenere uno stato di equilibrio tra i quattro corpi menzionati da Terry. Il corpo fisico, il corpo emotivo, il corpo mentale e infine il corpo spirituale. I pensieri critici chiamati energie negative secondo Terry avevano la capacità di drenare e quindi prosciugare le energie positive diventando persino mortali. La paura del cancro ad esempio poteva causare il cancro. L'obiettivo finale della vita dunque era quello di diventare così evoluti da ascendere al piano spirituale più elevato, quello condiviso con Dio e i maestri durante la successiva incarnazione. Ciò richiedeva un fervente impegno nell'attuare gli insegnamenti di Terry. Se desiderate entrare nei regni più elevati dovete lavorare per sviluppare il potere latente delle vostre emozioni contenuto nella mente e nell'anima, diceva Terry. La struttura di questo dogma appoggiava ampiamente su alcuni scritti che avrebbero ispirato il movimento New Age dalla diffusione prettamente popolare durante gli anni Ottanta. Terry stava sfruttando l'angoscia di una generazione irrequieta, insoddisfatta della religione tradizionale e nello specifico della sua incapacità di fornire risposte chiare a domande impossibili. Dallas si rivelò un territorio fertile per i suoi insegnamenti. Il divorzio, il materialismo e la ricerca del piacere personale erano dilaganti. Le dottrine di Terry offrivano il perdono dei peccati e conducevano al rafforzamento del piacere. La guru spiegò ai fedeli cosa avrebbero dovuto provare. Se sarebbero sentiti a proprio agio con la ricchezza, avrebbero trovato la felicità in ogni incontro intimo. Tutti i partecipanti alle lezioni di meditazione sedevano a gambe incrociate, sul pavimento, assimilando la saggezza della guru che si esprimeva su qualsiasi cosa, dall'intimità alle finanze personali ai fantasmi. Poi, parlando sempre più lentamente con tono premuroso da definirsi materno, Terry condusse il gruppo in quello che alcuni chiameranno in seguito uno stato simile alla trans, inclusero l'incontro serale con la recitazione di preghiere. Terry era disponibile anche per consulenze individuali su qualsiasi argomento, ma sempre a pagamento, chiaramente. Ciò nonostante, la casa della guaritrice stava vivendo un periodo tumultuoso. John Wilder aveva espresso un crescente scetticismo riguardo alle dichiarazioni di natura metafisica diffuse da sua moglie, ossia la Terry. Il 28 dicembre 1970 Terry chiese il divorzio, spiegando a un'amica che suo marito ostacolava la sua crescita spirituale. Nel decreto di divorzio pronunciato il 23 marzo 1971 ottenne la custodia dei suoi due figli più piccoli. Terry si risposò soltanto quattro mesi dopo, in quanto aveva trovato un partner con la giusta riverenza per i suoi poteri. Il suo nuovo marito era Glenn Scott Coley, uno studente della North Texas State University e suo discepolo spirituale. Glenn, che si era dilettato a lungo con certe sostanze, abbandonò l'università dopo il matrimonio con Terry. Glenn aveva 20 anni, mentre Terry ne aveva 33. I Coley acquistarono una casa al 4163 di Dunhaven Road, a North Dallas, e si dedicarono a tempo pieno al lavoro dello sviluppo consapevole. Oltre al ricavato delle sue lezioni di gruppo e delle consulenze private, Terry riuscì a guadagnare ulteriormente, introducendosi nel settore della gioielleria. Spiegava che alcune gemme e cristalli, se opportunamente selezionati e caricati, possedevano proprietà protettive e curative. Iniziò a esortare i suoi seguaci ad acquistare anelli, collane e bracciali, in argento, fatti a mano. Più un oggetto era costoso, più potere evocava, chiaramente. A quel punto si poteva individuare quanto strettamente un seguace abbracciasse gli insegnamenti di Terry, contando il numero di anelli che indossava. Sandy Clever, ad esempio, ne aveva più di una dozzina. Nessuno era più devoto di lei allo sviluppo consapevole e alla sua leader. Cresciuto in Alabama, Sandy era una donna snella e seria che godeva del reddito di un ampio fondo fiduciario familiare. Amici e parenti la consideravano un po' ingenua. Sandy aveva incontrato suo marito Chuck alla DePau University. Dopo la laurea, nel 1960, Chuck accettò un lavoro per Procter & Gamble a Dallas. La figlia dei Clever, Dave Rowe, nasce quattro anni dopo. Nonostante i suoi vantaggi finanziari e la sua notevole intelligenza, Sandy era spiritualmente turbata. I suoi genitori avevano divorziato quando era una bambina e sua madre aveva trascorso alcuni anni negli ospedali psichiatrici. Sua sorella adolescente era morta in un incidente d'auto e nel 1966 suo padre era morto in un incidente aereo. Le disgrazie stimolarono Sandy a intraprendere una ricerca spirituale, un percorso sorretto dalla meditazione, dal vegetarianesimo e dalla medicina omeopatica che alla fine la portò a incontrare Terry. Il 21 aprile 1971, un mese dopo la fine del matrimonio di Terry con John Wilder, Sandy chiese divorzio spiegando a Chuck che lei e Terry concordavano che lui stava bloccando il suo sviluppo spirituale. In un'aspra battaglia per la custodia della figlia durata un anno, Chuck affermò che Sandy era una madre inadatta, proprio perché sommersa dagli insegnamenti di Terry. Convinta che la medicina convenzionale fosse inutile, Sandy si era rifiutata di permettere a Chuck di portare Devereux dal pediatra anche quando la bambina era malata. Preferiva curarla con la preghiera, l'incenso e gli incantesimi. Sandy ripose la sua fiducia in un assortimento di pillole senza etichetta prescritte da un guaritore senza licenza del Messico consigliatole da Terry. Il guaritore diagnosticò telepaticamente le condizioni di Devereux, quindi spedì dei flacconi di pillole a Dallas. Lo so, è folle tutto ciò, lo so, ne sono consapevole. Chuck testimoniò che Sandy arrivò a somministrare a Devereux una bambina di 5 anni fino a 110 pillole al giorno. 110! Aggiunse che credeva di poter ottenere la custodia legale di sua figlia. Certo, aveva sbagliato anche lui, aveva ceduto il controllo a Sandy e ora temiva che quella fede che la donna nutriva nella reincarnazione avrebbe ucciso Devereux piuttosto che permetterle di vivere con lui. Quanto meno una disposizione speciale nel decreto di divorzio obbligò Sandy a far visitare Devereux soltanto da medici riconosciuti autorizzati a esercitare in Texas, almeno quello. Libera dei legami coniugali che bloccavano il suo sviluppo spirituale, Sandy divenne l'assistente, non retribuita e a tempo pieno, di Terry. Perché a Terry piace ricevergli soldi, mica darli. Cominciò a riscrivere i contenuti per i corsi per corrispondenza sullo sviluppo consapevole e decise di comprare al gruppo una macchina da stampa. Aiutò anche a creare i gioiali da vendere. Quando Terry creò legalmente lo sviluppo consapevole nel 1974 nominò Sandy segretario tesoriere. Più Sandy veniva coinvolta, meno attenzione prestava Devereux, sua figlia. Si mise in viaggio con Terry per vendere i gioielli e lasciò Devereux per giorni alle cure dell'anziana governante di famiglia, Louise Watson. Sandy iniziò pure a ospitare gli incontri del gruppo sviluppo consapevole a casa sua, di notte dopo aver lasciato Devereux con Louise. A volte le sedute si protraevano fino alle due del mattino. Chuck si lamentò della presenza di un giovane in particolare, un conoscente dello sviluppo consapevole che Sandy aveva accolto in casa sua. Cosa avrebbe pensato di lui Devereux? Sandy gli disse che stava proteggendo la figlia con uno scudo psichico. Era sicuro da qualsiasi danno, piuttosto, secondo lei, erano le sue cattive vibrazioni che stavano facendo ammalare Devereux. Verso la metà degli anni 70, più di 100 persone assistevano alle lezioni settimanali dello sviluppo consapevole, tenute nel campus della Southern Methodist University e in una stanza della First Unitarian Church di North Dallas. Centinaia, forse migliaia di seguaci in tutto il paese ricevettero piccoli libricini con stampate le lezioni di Terry. Sandy scrisse a suo fratello che lei e Terry stavano condividendo qualcosa di molto speciale. Lei e Terry cominciarono a progettare con entusiasmo di portare lo sviluppo consapevole a livello nazionale, di costruire una scuola per diffondere il loro Vangelo. Sandy si sentiva privilegiata a lavorare con Terry. Stavano guidando un movimento potente per perseguire una missione santa, ossia diffondere conoscenza, pace e amore per il bene di tutta l'umanità. Con la diffusione della popolarità del suo gruppo, Terry decise che circa 25 dei suoi seguaci più devoti, tra cui Sandy Clever, sarebbero diventati insegnanti. Avrebbero tenuto alcune delle lezioni settimanali al suo posto, ma la presenza carismatica della fondatrice di sviluppo consapevole incombeva più che mai. Con la creazione di un nuovo livello di leadership, Terry ascese uno status più prossimo a quello celeste. I suoi seguaci iniziarono a chiamarla Anatamaji, la rivelatrice divina. Terry disse a Sandy che poteva levitare e curare i malati, anche a centinaia di chilometri di distanza. Descrisse meditazioni in cui comunicava con il Babaji, un leggendario guru himalayano, e un'altra meditazione in cui parlava con Platone. Platone. Man mano che il numero di seguaci coinvolti nello sviluppo consapevole cresceva, Terry iniziò a indire riunioni settimanali convocando la sua cerchia ristretta, cioè il gruppo di insegnanti selezionati con cura. In questa occasione rivelò ai presenti che erano tutti membri della fratellanza bianca, scelti dai maestri per combattere le forze del male. I loro nemici erano chiamati signori neri ed erano parte della bieca fratellanza nera. A nome di tutta l'umanità, gli insegnanti di sviluppo consapevole avrebbero dovuto sfidare i signori neri in combattimenti sostenuti telepaticamente. I signori neri esistono sul piano astrale e mentale, spiegano le istruzioni distribuite agli insegnanti. Per eliminarli bisogna condurli nelle fosse dell'inferno dove le loro anime e i loro corpi inferiori saranno dissolti. Ancora più letali sono i padroni, i signori supremi neri, dal momento che non possono essere dissolti nelle fosse dell'inferno, ma devono invece essere portati nella caverna di dissoluzione elettromagnetica. E poi ci sono i garbons, creature di aspetto simile a quelle dei gargoyle, alti circa a sei piedi, con un lungo becco e ricoperti di melma che attraverso il tatto può espandersi e contaminare il corpo delle loro vittime. I garbons presentano pericoli speciali. Se dopo 30 secondi o al massimo un minuto avvertite una sensazione di formicolio alla mano, o se la vostra mano trema, dovreste presumere di avere un gabron attaccato alla mano. Usando la vostra immaginazione, avvolgetelo nel filo spinato e pugnalatelo fino a ucciderlo. Quindi immaginate il gabron morto che si muove verso l'alto e si dissolve nell'universo. Per sfidare la fratellanza nera, gli insegnanti si armano di simboli magici. Una verga, una tazza, una spada e un pacchetto di stoffa contenente un'altra tazza colma di terra. I simboli chiaramente rappresentano gli elementi fuoco, acqua, aria e terra e trasmettono agli insegnanti il doppio del potere per demellare i signori neri. I simboli non devono essere a grandezza naturale. Tagliacarti o penne a sfera possono fungere da spade. Ogni insegnante si siede all'interno del suo cerchio magico, un grande cerchio di stoffa su cui è inciso un triangolo. I cerchi magici offrono protezione. Alcuni insegnanti ci dormono addirittura dentro. Successivamente eseguono una serie di riti di protezione con i loro simboli magici. Ora che dispongono di tutte le informazioni necessarie, i seguaci dello sviluppo consapevole iniziano la battaglia per portare a termine il compito di uccidere i signori neri. Esprimendosi attraverso gesti praticati con accuratezza, gli insegnanti di Terry, tra cui si individuano un professore universitario, un dirigente di un'agenzia pubblicitaria e un consigliere distrettuale scolastico di Dallas, iniziano a sferzare l'aria con le loro penne a sfera e i tagliacarte. E quindi un signore nero è precipitato nelle fosse dell'inferno. Un signore supremo nero è stato inviato nella caverna di dissoluzione elettromagnetica. Che cos'è la caverna di dissoluzione elettromagnetica? Non ci è dato a saperlo. Sebbene il combattimento sia limitato al regno spirituale, molti insegnanti lo considerano abbastanza reale e mortale. Il grave infortunio sembra lontano dalla realtà mentre ci sediamo e andiamo in battaglia, scrive uno dei leader del gruppo. Però va ricordato che, mercoledì scorso, abbiamo dovuto correre in soccorso di alcuni membri della nostra fratellanza bianca, mentre combattevano. Molti di questi fratelli sono morti in quell'universo lontano perché non erano pronti alla battaglia, come lo siamo stati e lo saremo noi. Quando Terry soffre di un qualsiasi disturbo fisico, come un mal di schiena, un mal di denti o un mal di pancia, spiega ai suoi seguaci che sta sopportando la punizione dei signori neri al posto loro. Ce li fa pure sentire in colpa. Settimana dopo settimana, gli insegnanti si regruppano in varie squadre per combattere le forze del male. I combattimenti proseguono per ore, fino a tardanotte. Aggiornamenti iscritti occasionalmente dai luogotenenti di Terry registrano il conteggio delle vittime e un prospetto sempre cupo. La prima battaglia che abbiamo combattuto è durata più di tre ore e ha disciolto soltanto 242 signori e nessun signore supremo. Gli attacchi stanno diventando frequenti e gli eventi cominciano a farsi disperati. Hanno bisogno di aiuto. Eppure gli insegnanti combattenti possono e devono cercare aiuto unicamente tra i loro alleati spirituali. Tutti hanno giurato di mantenere il segreto riguardo a questa battaglia spirituale. Le informazioni che ci sono state fornite per i nostri scopi di battaglia sono sacre. Non devono essere distribuite o visualizzate da nessuno al di fuori della classe dei nostri insegnanti. I rituali e l'equipaggiamento che li accompagna non devono essere discusse di fronte ad altri. Per quanto possibile l'equipaggiamento magico deve rimanere nascosto. Terry riesce a suscitare una certa paranoia. Le forze nere sono ovunque e l'isolamento è autorafforzante. Coloro che lasciano lo sviluppo consapevole erano divenuti particolarmente diffidenti, chiaramente. Alcuni vengono identificati come posseduti e diventano bersagli dei rituali degli insegnanti. Le istruzioni scritte consigliano. Riduci la maggior parte dei tuoi contatti sociali con coloro che sono al di fuori di questo gruppo. È per la loro protezione. Le forze nere potrebbero usarli per raggiungerti. Tieni la spada vicino a te, soprattutto quando vai a letto. Proteggi i tuoi animali, l'auto, il luogo di lavoro e la tua casa con i rituali di protezione. Tuttavia i signori neri continuavano a colpire sempre più vicino. Il 2 febbraio 1977, Glenn Scott Coley, il marito di Terry, viene trovato morto. La causa è asfissia. Ma facciamo di nuovo un passo indietro. Poco dopo aver sposato Terry, Glenn Coley aveva cercato di diffondere la letteratura sullo sviluppo consapevole tra i suoi cari. Aveva presentato il materiale scritto e stampato da Terry ai suoi genitori. Madre, ci sono molti profeti, spiegò. Ma la sua famiglia di confessione battista e appartenente alla classe media non approvò mai la sua scelta. Per sei anni Glenn lavorò a tempo pieno nel settore della gioielleria di sviluppo consapevole. Poi, dopo l'inizio delle battaglie contro i signori neri, confidò a sua madre che persino lui ne aveva sentito abbastanza. Insomma, era convinto che Terry raccontasse solo grandissime balle. Voleva tirarsi fuori da tutto. Il matrimonio, lo sviluppo consapevole, tutto. Testimonierà poi sua madre. Terry e Glenn si separarono il 24 novembre 1976. Glenn accettò di accelerare il procedimento. Il clima semereva amichevole. Non c'era risentimento tra loro. Infatti, Glenn stava ancora lavorando con Terry nel settore della gioielleria. Il decreto di divorzio fu concesso il 27 gennaio 1977. Cinque giorni dopo, Glenn trascorse la notte in una capanna di proprietà dei suoi genitori sul lago Grapevine, a nord-ovest di Dallas. Il giorno successivo, Terry riferì di aver trovato un biglietto scarabocchiato a mano da Glenn, riposto all'interno della sua cassaforte e intitolato Ultima volontà e testamento. Si legge poi... Io, Glenn Coley, do a Terry Coley tutte le mie proprietà, sia personali che reali. Ciò include due barche, una Buick Limited del 1972, tutti i gioielli e le attrezzature per la sua realizzazione, tutti gli arredi per la casa su Dunhaven Road e tutti i contanti. Glenn Scott Coley Chiedo che questa mia ultima volontà non venga contestata da nessuno in alcun modo e per nessun motivo. Ultimo ma non importante, do tutto il mio amore a tutta la mia famiglia e ai miei amici. Non posso realmente darvi una spiegazione. Non so quale sia la motivazione delle mie scelte, ma posso assicurarvi che non è a causa del divorzio con Terry, né delle esperienze passate con le sostanze, tanto meno dall'incapacità di far fronte alle difficoltà. Di cosa si tratta? Io stesso lo so, dentro di me è tutto molto chiaro, ma non ho parole per descriverlo. Firmato Glenn Coley Terry in seguito dirà all'autorità che dopo aver trovato la nota aveva incontrato due seguaci dello sviluppo consapevole e aveva guidato con loro fino alla capanna dove avevano scoperto il corpo di Glenn. L'ex marito 25enne di Terry si era tolto le scarpe e si era messo a letto. La schiuma gli colava dalla bocca. Una lattina mezza vuota di birra Coors era appoggiata sul vicino Comò e, quando il corpo venne spostato, emersero due capsule. Uno screening per indagare sull'eventuale presenza di sostanze eseguito dopo l'autopsia rivelò tracce di Valium e Librium nel sangue di Coley. La sua morte fu dunque attribuita a un overdose. Terry disse all'autorità che Glenn sembrava scoraggiato, ma aveva ignorato il suo consiglio di non partire per la capanna da solo. Riferì che dopo la sua partenza non lo aveva più visto vivo. Il suo resoconto della morte di Coley rimasi incontrastato per 13 anni. Ma, successivamente, un ex insegnante di sviluppo consapevole raccontò agli investigatori una storia diversa. Secondo la donna, lei e Terry erano andate alla capanna la notte del primo febbraio 1977, mentre Glenn era ancora vivo. La donna riportò che sulla strada per raggiungere il lago, Terry le aveva detto che Glenn stava passando al livello successivo. Una volta arrivate, Glenn, ancora lucido, aveva confessato di aver assunto i farmaci mortali. Per i membri del gruppo di insegnanti, la morte di Glenn è la prova che i signori neri stanno sviluppando ulteriori poteri. Terry annuncia così una nuova strategia difensiva. Il salasso. I signori neri avevano il potere di avvelenare il sangue. Le persone da loro colpite dovevano drenare il veleno. Il salasso porta molti ad abbandonare lo sviluppo consapevole e pure il gruppo ristretto si riduce. Ma la fede di Sandy Clever rimane incrollabile, anche quando Terry inizia a dirle che le forze nere avevano infettato sua figlia Devereux. Nel dicembre del 1978 Devereux è ormai una ragazza energica e attraente. Frequenta la Green Hill School, una scuola privata del North Dallas. È una brava studentessa e scrive poesia. È popolare tra i compagni di classe anche perché è un'atleta vigorosa, un membro della squadra di basket e una bravissima nuotatrice. Ma sua madre ha paura di lei. Sandy dice ai colleghi di sviluppo consapevole che gli spiriti maligni che minacciano Devereux stanno cercando di infettare le sue energie. Devereux è abbattuta dal comportamento distante di sua madre. Sandy è sempre in viaggio e la lascia da sola. Sembra nutrire scarso interesse per i traguardi di sua figlia. Si rifiuta persino di assistere alle sue partite di basket. Così, all'inizio del 1979, quando Sandy chiede a sua figlia di unirsi a lei e a Lynn Fairchild, un altro insegnante, in un viaggio alle Hawaii, Devereux accetta con entusiasmo. Il 25 febbraio il trio si ferma a fare un picnic in una laguna vicino alla penisola di Huaylupe, un luogo che Terry aveva precedentemente visitato. Mentre Lynn rimane a terra, Sandy e Devereux prendono una zattera gonfiabile blu e rimano per diverse centinaia di metri, finché non galleggiano su una barriera corallina che, si sa, ha una struttura che può essere parecchio tagliente. Improvvisamente, spiegherà Sandy in seguito, un'onda le fa cadere dalla zattera e una seconda onda le allontana e le spinge sott'acqua. Sandy racconterà che, dopo essere riemersa per riprendere fiato, si era immersa nuovamente per mettere in salvo Devereux, ma non era riuscita proprio a trovarla. Chiamati da Lynn, i soccorritori raggiungono Sandy, contusa e sanguinante, in cima alla barriera corallina. Il corpo di Devereux non viene recuperato per ore. Chuck Clever apprende che sua figlia è scomparsa quando Terry chiama casa sua a Dallas a luna del mattino. L'uomo ovviamente parte immediatamente per l'Hawaii e, quando arriva, trova Terry nella stanza d'ospedale di Sandy. Mentre Chuck era in viaggio, uno dei seguaci di Terry aveva chiamato a casa sua per avvisare che era in possesso di un documento che doveva vedere. Un amico di famiglia va a prenderlo, si tratta delle volontà di Devereux. Indirizzata a Terry e Ben Johnson, il terzo marito della guru, la lettera scritta a mano da Devereux dichiarava che erano i beneficiari che avrebbero ricevuto tutti i suoi soldi. Devereux aveva un fondo fiduciario di 125.000 dollari che viene integralmente destinato alla scuola di sviluppo consapevole, così come Terry e sua madre avevano pianificato. Lo stesso giorno una donna si spinge fino alla scrivania del vicepresidente di Republic Bank, che gestisce il fondo fiduciario, annunciando di essere lì per consegnare la volontà di Devereux Clever. La donna consegna al banchiero un paio di documenti, la lettera manoscritta indirizzata a Terry e Ben e un secondo testamento abbastanza formale, chiaramente non opera di Devereux, datato l'agosto precedente. Si legge Cedo, lascio in eredità tutta la mia proprietà, inclusi tutti i diritti, i titoli e gli interessi di qualsiasi natura io possa possedere e su qualsiasi proprietà, reale, personale o mista, ovunque situata. A Terry Johnson, che è stata per me come una seconda madre. Come l'ultimo testamento di Glenn Coley, anche quello di Devereux contiene espressamente la richiesta del presunto autore di non contestare quanto previsto. I due documenti, però, non sono validi, poiché anche in Texas i minori non possono scrivere un testamento legale. Il padre della ragazza è scioccato. Quanti adolescenti compongono un testamento? Inoltre, Chuck Clever sostiene che il contatto di Devereux con Terry era limitato. Chuck crede che sua figlia abbia redatto i documenti su richiesta di Sandy, perché desiderava disperatamente essere accettata da sua madre. Dopo aver rimuginato sull'accaduto, Chuck inizia a nutrire un orribile sospetto. Sandy, sotto l'influenza di Terry e convinta che Devereux era posseduta dai demoni, potrebbe averla uccisa. La morte di Devereux avvicina ancora di più Sandy a Terry, che nello stesso anno perde un figlio. Ad agosto, il figlio 22enne di Terry, Kenneth, cade attraverso un buco presente nel tetto di un edificio commerciale che stava aiutando a costruire. Il ragazzo precipita per 30 piedi, quindi circa 10 metri, si schianta su un suolo di cemento e muore per una frattura al cranio. Due mesi dopo la morte di Devereux, Sandy stipula una polizza di assicurazione sulla vita per 300.000 dollari, il doppio di quanto gli aveva raccomandato il suo agente della compagnia State Farm. Terry è l'unica beneficiaria. L'unica. Alla fine del 1979 trasferisce il titolo relativo alla sua casa nel North Dallas dal valore di 180.000 dollari a Terry e inizia a pagare l'affitto alla leader per il privilegio di vivere nella sua casa. L'8 settembre 1981 Sandy e la sua governante Louise Watson partono per quello che sarebbe stato un viaggio di sei giorni in Colorado. Sandy vuole visitare degli appezzamenti di terreno di montagna che Terry e alcuni dei suoi seguaci avevano acquistato vicino a Cripple Creek. Avevano in programma di costruire un ritiro lì. Louise, una donna di 77 anni, non vuole partire perché non si sente bene, ma Sandy la comincia ad andare. Dopo aver noleggiato una station wagon all'aeroporto di Denver, le due donne trascorrono la notte con la sorella di Terry a Colorado Springs. Il giorno successivo partono per raggiungere la proprietà dello sviluppo consapevole. Verso le 5 di quel pomeriggio, nella zona conosciuta come il Giardino degli Dei, si verifica un incidente. L'auto guidata da Sandy Clever precipita dalla montagna per 500 piedi, finendo in un burrone. La strada sterrata percorsa a Gold Camp Road effettua una curva a destra, ma l'assenza su di essa di segni di slittamento porta la polizia a concludere che Sandy non aveva virato o addirittura frenato. Lei e Louise erano state scagliate fuori dall'automobile durante la discesa e i loro cadaveri vengono scoperti il giorno successivo a una profondità molto inferiore di quella raggiunta dalla vettura ormai distrutta. Come per la morte di Devereux, Terry si affretta a raggiungere la scena. Due giorni dopo l'incidente si presenta in un ospedale locale per reclamare i corpi. Ancora una volta Terry possiede un testamento. Sandy l'aveva aggiornato soltanto tre mesi prima e aveva lasciato tutti i suoi averi alla sua guru. Louise, sempre desiderosa di compiacere Terry, aveva firmato un testamento lo stesso giorno nominando la leader come beneficiaria della sua umile proprietà. Entrambe le donne nominano Terry come esecutrice testamentaria e chiedono che le loro ceneri vengano deposte nell'ancora inesistente centro di apprendimento per lo sviluppo consapevole. Terry incassa l'assegno di 300.000 dollari che riceve a titolo di beneficiaria della polizza di assicurazione sulla vita di Sandy. Ottenere i proventi della tenuta di Sandy sarebbe stato più difficile. Due mesi dopo la morte di Sandy, suo fratello Crumb Betty presenta dei documenti per contestare il testamento. Il suo avvocato è James Barclow, un tenace ex procuratore penale. Per Barclow il caso di successione avrebbe dato filo da torcere a Terry Hoffman, ossessionandola per almeno un decennio. Barclow afferma che la volontà di Sandy è in realtà il risultato di un'influenza indebita e di una frode. Insomma, Sandy mancava della capacità di esercitare pensieri e ragionamenti liberamente indipendenti, afferma Barclow nei documenti del tribunale, perché era controllata grazie all'uso dell'ipnosi, del condizionamento pavloviano e della psicoterapia. Il condizionamento pavloviano o classico comporta, in presenza di una contiguità temporale, l'associazione ripetuta di uno stimolo incondizionato, quindi naturale, a uno stimolo condizionato, quindi artificiale, in modo che alla fine la presentazione dello stimolo condizionato stesso porti a evocare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata. Per fare un esempio pratico, dopo un certo numero di esposizioni, il solo suono del campanello, anche in assenza della somministrazione del cibo, provocava negli animali un aumento della salivazione. In una deposizione preliminare, Terry nega di aver controllato Sandy, ma ammette di aver tentato l'ipnosi in due occasioni. Il caso va in giudizio nel giugno del 1982 e dopo cinque giorni di testimonianza, Terry decide di cedere e accontentarsi piuttosto che attendere il verdetto della giuria. Accetta dunque di pagare a Chrome, il fratello di Sandy, 112.500 dollari in contanti e il 40% dei proventi netti ricavati dalla vendita della casa di Sandy. Gli oggetti d'antiquariato, i dipinti e altri beni di Sandy e il resto del denaro, per un valore di 332.000 dollari, sarebbero stati divisi equamente. Per Terry, a quanto pare, l'impatto della morte di Sandy è devastante. Interrompe tutte le lezioni di sviluppo consapevole. Nel dicembre 1982, l'apparizione di un articolo sulla rivista D, sull'onda del processo, sulla successione di Sandy, sembra segnare la disfatta del gruppo. L'articolo è intitolato I veri credenti, l'ascesa e la caduta di un culto di North Dallas. Tuttavia, David Allen Goodman, di cui ho parlato all'inizio della ricostruzione, è uno di quei seguaci la cui fede non crolla. Il magro e baffuto professore di economia testimonia, a nome di Terry, al processo di Sandy, descrivendo lo sviluppo consapevole come un semplice gruppo di discussione che promuoveva atteggiamenti mentali positivi. Goodman dice alla giuria di aver persino usato le lezioni di Terry per un corso di psicologia organizzativa tenuto alla Southern Methodist University. Goodman è uno dei quattro seguaci dello sviluppo consapevole disposto a battersi per testimoniare il valore degli insegnamenti di Terry nelle loro vite. Tre su quattro si sarebbero poi suicidati. I genitori di David Goodman, invece, lottano da sempre e duramente per proteggere il figlio dalle influenze insidiose. I due negozianti di Chicago, Leonard Head e Alice Goodman, si erano trasferiti in California nel 1954 alla ricerca di un posto in cui gli abitanti non avessero la necessità di chiudere a chiave la porta d'ingresso di casa. Insomma, cercavano un posto tranquillo. Si stabilirono a Santa Maria, una comunità di 12.000 abitanti annidata in una valle a 175 miglia nord di Los Angeles e aprirono un negozio di alimentari. David era il maggiore di tre figli. Era anche un mago della matematica. Sposò la sua fidanzata del liceo Peggy nel 1961, mentre era uno studente ventenne presso l'Università della California a Santa Barbara. E aveva anche conseguito una borsa di studio. Otto mesi dopo la nascita del primo figlio, Rick, David rifiutò l'offerta di un aiuto finanziario da parte dei suoi genitori e abbandonò il college per sostenere la sua famiglia, accettando un lavoro come tecnico informatico. Quando abbia risparmiato abbastanza soldi, David tornò al college. Conseguì una laurea in matematica, poi una laurea di secondo livello a Berkeley, all'Università della California. Nel 1965 accettò un lavoro come analista di ricerca presso la Corning Glass Corporation, nello stato di New York. Nello stesso anno nacque il suo secondo figlio, Tony. David rimase alla Corning per cinque anni, ma non trovò mai appagante la vita aziendale. Nel 1967 prese un congedo e iniziò a lavorare per un dottorato in scienze gestionali all'Università di Yale. Bruce Bajnan, ora professore di scienze politiche all'Università del Texas ad Austin, avvia una lunga amicizia con David. Quando aveva conseguito la laurea, Goodman aveva ricevuto offerte sia dalla Harvard Business School che dalla Southern Methodist University. La maggior parte dei neolaureati avrebbe accolto l'offerta della Harvard School, ma David pensava che il clima li fosse troppo rigido, voleva lavorare in un ambiente meno strutturato, trovare un'opportunità per fare le cose a modo suo, diciamo. Inoltre l'idea di sottrarsi ad Harvard lo attraeva. Era orgoglioso di non essere banale nelle sue scelte. David iniziò a lavorare alla Southern Methodist University nell'autunno del 1970 come assistente di un professore. Aveva 29 anni. Sei mesi dopo, nel decimo anniversario del loro matrimonio, sua moglie Peggy lo lasciò bruscamente. Così David decisò di fare un cambiamento e si candidò per un lavoro alla University Park in Texas. Con un dottorato di ricerca Yale, David venne considerato una perla rara dalla Edwin L. Cox School of Business. Inoltre scriveva e pubblicava regolarmente sulle migliori riviste accademiche. Nel 1973, dopo soli tre anni di facoltà, venne promosso professore associato e gli venne assegnata la cattedra. L'anno successivo ricevette il premio della Business School per l'eccellenza nella ricerca. Ma la sua vita personale non si ristabilì facilmente. David approfondì le religioni orientali, lesse libri a riguardo, partecipò alle riunioni del movimento Har Krishna e si iscrisse a corsi di meditazione trascendentale. A partire dal 1973, David si rivolse al gruppo sviluppo consapevole per cercare la sua strada spirituale. Dopo aver sentito parlare di Terry da un amico, David divenne rapidamente un frequentatore abituale delle sue lezioni di meditazione. Presto si incontrò con lei per delle consultazioni private. Dall'analisi di un rendiconto finanziario emerge che nel 1979 David aveva speso 150 dollari al mese in consulenza. La famiglia di David inizia a sentire parlare di Terry all'indomani del suo divorzio. Ha detto che non sapeva come avrebbe potuto farcela se non fosse stato per Terry, ricorda suo padre. Durante un viaggio in California, David disse con entusiasmo a suo fratello adolescente che Terry leggeva nel pensiero. Poteva vedere l'aura delle persone. David spiegò che Terry lo stava addestrando, aveva finalmente trovato il suo guru personale. La biografia ufficiale di Terry, composta da ben 5 pagine e fornita dagli acquirenti dei corsi per corrispondenza di sviluppo consapevole, riportava che la leader aveva sempre pensato che i maestri fossero la sua vera famiglia. Allo stesso modo, i membri della cerchia ristretta di Terry, incluso David Goodman, sarebbero presti arrivati a considerarsi l'un l'altro come la loro vera famiglia. Terry incoraggiava i suoi seguaci a limitare il loro coinvolgimento con chiunque altro, compresi i parenti. Gli attaccamenti con moglie e figli inclusi erano le più insidiose e ingannevoli tra le passioni distruttive, scrisse in una delle sue lezioni. Poiché non potevano lasciare tempo alle devozioni spirituali. La liberazione della vostra anima è l'unica cosa per cui siete in questo mondo. Quelli profondamente coinvolti nello sviluppo consapevole giunsero a formare un circolo ristretto ed esclusivo. Negli anni 70 David Goodman incontrò molti professionisti con una formazione comparabile alla sua come Robin Hottstott, una donna minuta che aveva conseguito un master in assistenza sociale e scriveva programmi per adolescenti in difficoltà nel distretto scolastico di Dallas. Conobbe anche l'amica più intima di Robin, Tamara Taylor, dirigente pubblicitario di Bozel Jacobs. John Miller, professore di filosofia al North Texas State. Lynn Fairchild e, negli anni prima della sua morte, Sandy Clever. David incontrò anche Don e Alice Hoffman. Gli Hoffman si erano uniti allo sviluppo consapevole nel 1974, dopo che la figlia era venuta a mancare annegando nella piscina del loro cortile. Don, un uomo amichevole, era un ingegnere elettrico e uno studioso della Bibbia. Era stato nominato presidente della congregazione presso la chiesa luterana dell'ascensione a Garland. Ma dopo la morte della figlia, Don e Alice avevano trovato poco conforto nella religione convenzionale. Entrambi erano così diventati membri della cerchia ristretta di Terry. Nell'aprile del 1980, Don e Alice, genitori di altri due figli ancora in vita, misero fine al loro matrimonio durato 22 anni. Alice firma una rinuncia che consentì a Don di sposare Terry, che aveva divorziato dal suo terzo marito, Ben Johnson, un mese prima. Alice abbandonò lo sviluppo consapevole. Don lasciò il suo lavoro di ingegnere. Come gli ultimi due mariti di Terry, scelse di dedicare tutte le sue energie allo sviluppo consapevole. I seguaci che sono rimasti fedeli a Lana Tamagi durante tutti questi avvenimenti, il salasso, la morte di Sandy, il processo, la cattiva pubblicità, si stringono attorno a lei più che mai. Sebbene il gruppo tenga raramente riunioni formali, i suoi membri socializzano spesso. Celebrano Halloween e il Natale organizzando delle feste. Terry conduce riti in Oklahoma e Colorado. Distribuisce un elenco con i nominativi di medici e artigiani raccomandati per il gruppo da patrocinare. I membri si frequentano e aiutano i compagni di fede a trovare lavoro. Verso la metà degli anni 80 Terry è una guru un po' tuttologa. In quanto, oltre alla consulenza spirituale ai gioielli, ora offre la terapia della digitopressione. E la digitopressione è un'antica tecnica di massaggio che si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo che, si afferma, sono corrispondenti a ciascun organo. Permette di sprigionare un flusso di energia vitale che consente all'organismo di lavorare correttamente. Prevede inoltre speciali massaggi come il massaggio dei chakra. L'obiettivo è aprire i chakra, cioè i punti corrispondenti ai centri energetici, con il massaggio in modo da attivare i punti strategici che rilasciano l'energia. Se questi sono troppo chiusi o al contrario troppo aperti, si manifesterà uno squilibrio psicofisico. Stimolandoli opportunamente con il massaggio, è possibile riequilibrarli, consentendo alla persona trattata di raggiungere una profonda condizione di armonia e benessere. Dopo aver istruito Don nell'arte della digitopressione e nel massaggio dei chakra, Terry inizia a fargli manipolare alcuni dei suoi clienti. Per me è assurdo tutta questa storia. La guru tra l'altro si considera anche una consulente finanziaria, insomma consiglia ai devoti di cambiare lavoro o di avviare delle specifiche attività. Arriva a condurre un seminario a casa sua sul business del petrolio. Una delle lezioni di Terry sullo sviluppo personale si svolge a Hydeland Park, nella villa da un milione di dollari di Anne Cox, moglie del petroliere di Dallas, Edwin Cox, di cui la Southern Methodist University Business School aveva preso il nome. Molti dei seguaci di Terry accolgono i visitatori nell'elegante tenuta. David Goodman è più attento ai consigli di Terry sulle sue relazioni personali e intime, anche se la sua chiaroveggenza si sta rivelando tutt'altro che assoluta. David si risposa nel 1977 con una studentessa di musica di 23 anni, mediante una cerimonia condotta da Terry. Già, la guru incoraggia l'unione, ma la coppia si separa meno di due anni dopo. Sei mesi dopo il divorzio, David si sposa per la terza volta. La sposa del professore di 39 anni è un'ex studentessa di 24 anni. Terry li dichiara anime gemelle destinate a molte vite insieme e presiede la cerimonia di nozze, ma il matrimonio dura soltanto tre anni. Mentre David si immerge negli insegnamenti di Terry sullo sviluppo personale, si allontana dal campo lavorativo che egli aveva fatto guadagnare un incarico a tempo di record alla Southern Methodist University. Tra il 1975 e il 1980 pubblica soltanto due articoli sulle riviste. Non aveva scritto alcun libro e il volume che stava lottando per completare, intitolato Potere interiore, scoprire te stesso e manifestare le tue potenzialità, era decisamente al di fuori del suo campo di studi e conoscenze. Si trattava di un concentrato, di una visione terrena degli insegnamenti di Terry. Il libro venne rilegato in brossura e pubblicato nel 1982. Secondo l'editore ha venduto 78 copie a livello nazionale. I colleghi professori arrivano a considerare David come l'eccentrico uomo misterioso e bizzarro della business school. Dopo aver tenuto le sue lezioni mattutine, David si concede lunghe pause intorno all'ora di pranzo, per giocare a squash, poi scompare a metà pomeriggio. I suoi studenti si lamentano perché non è mai presente nel suo ufficio e dunque non risulta disponibile a rispondere alle loro domande. David rifiuta di partecipare al lavoro del comitato, un compito che di solito coinvolge la vita di un accademico. Quando i colleghi lo nominano in una commissione, lui non si oppone, semplicemente non si fa vivo. Cravatta e giacca sono ancora l'uniforme ufficiale da indossare in facoltà nella maggior parte delle classi della business school, ma David preferisce un abbigliamento più frivolo, più casual, una camicia sbottonata e una collana di perline. Quando un nuovo rettore dell'Ateneo comincia a lavorare alla Southern Methodist University, stila immediatamente un elenco di professori di ruolo che considera improduttivi, con l'obiettivo di licenziarli invitandoli a lasciare la facoltà. David Goodman è finito sulla sua lista. Nel tentativo di salvare la situazione, il direttore del dipartimento a cui fa capo David lo esorta a riprendere la ricerca e la scrittura nel suo campo, quello che aveva consolidato la sua reputazione. David, invece, lancia un altro progetto che si rivela ugualmente proficuo per gli accademici. Collaborando con John Peavy, un ex agente di cambio della facoltà di economia, David, ed è una formula complessa testata al computer per la selezione dei titoli azionari, una strategia che considera le singole storie aziendali per giungere a una cernita delle migliori opportunità di investimento. Per due anni hanno ottenuto sotto controllo e perfezionato il sistema ottenendo rendimenti costantemente elevati, oltre il 30% all'anno. Nel 1982 i due esperti presentano diversi articoli sui loro risultati per conseguire la pubblicazione su autorevoli riviste accademiche. Ma David, in realtà, non vuole attendere che le sue idee vengano scoperte dalla stampa accademica. Facciamoci un po' di pubblicità, dice un giorno a John. Voglio un magnifico articolo sul Wall Street Journal. David invia quindi una copia di un articolo inedito al direttore della colonna di alto profilo Heard on the Street del giornale e, con stupore di John, i loro traguardi diventano l'argomento principale della colonna nella pubblicazione del 17 febbraio 1982. Nei tre anni successivi i due professori pubblicano più di una dozzina di articoli sul loro sistema di selezione dei titoli. La nota casa editrice Doubleday li ingaggia per pubblicare un libro intitolato Investimenti azionari contemporanei. Il volume appare nel 1985 riconfezionato per un pubblico di massa con il titolo Iperprofitti. Promosso come la più grande innovazione azionaria degli anni 80, Iperprofitti entra nella lista dei bestseller di Dallas e ci rimane per diverse settimane. Più di mille lettori in tutto il paese inviano un modulo che trovano già precompilato nelle ultime pagine e nel libro informandosi sugli aggiornamenti o sui software per computer basati sul loro sistema di investimento. Nei ringraziamenti riportati sul libro Goodman cita l'ispirazione e il supporto di Terry Hoffman. John lavora con Goodman ogni giorno della settimana per mesi, in alcuni giorni per tre o quattro ore. La loro collaborazione dura cinque anni eppure i due uomini non pranzano mai insieme ad esempio. John viene a conoscenza del terzo e del quarto matrimonio di David molto tempo dopo che hanno avuto luogo. Professionalmente ho trascorso più tempo colui di chiunque altro, dice John, ma semplicemente non l'ho mai conosciuto personalmente, non sembrava voler essere coinvolto con nessuno. Era strano. Mentre i due professori stanno ipotizzando di vendere il software Iperprofitti, John è soddisfatto del lungo e proficuo percorso che la ricerca compiuta con David ha tracciato per la propria carriera accademica. David, tuttavia, non era soddisfatto. All'inizio del 1986 John scopre che David Goodman sta promuovendo degli abbonamenti a una newsletter di materia azionaria basata sul lavoro svolto da entrambi e intitolata Goodman Report. John affronta Goodman, il quale sostiene che il suo partner non ha diritto a dei potenziali proventi. John consulta un avvocato, dopodiché decide di lasciar perdere. Il successo della pubblicazione della sua ricerca sugli investimenti riporta David Goodman nelle grazie dei suoi superiori accademici alla Southern Methodist University. Ma, sorprendentemente, tre settimane prima dell'inizio del semestre autunnale, nel 1987, David invia al direttore del suo dipartimento una lettera di una pagina in cui presenta le sue dimissioni con effetto immediato. La lettera, in realtà, non spiega le motivazioni di questa brusca scelta e David Goodman non torna mai al campus per dare chiarimenti in merito o per salutare i suoi colleghi. Non pulisce né libera il suo ufficio e non va a recuperare i suoi libri. Nessuno che ha lavorato con lui lo rivedrà più. David Goodman sembra scomparso improvvisamente. Quello che nessuno alla Southern Methodist University comprende è che David desiderava ottenere successo grazie alla sua ricerca. Non per riconquistarsi quella rispettabilità accademica che aveva fatto vacillare, ma proprio per avere il pass di uscita dalla Southern Methodist University. Secondo lui, tutti coloro che aveva conosciuto Lee erano assorbiti da meschine preoccupazioni, non coglievano le priorità della vita, nessuno si batteva quanto lui a favore del bene di tutta l'umanità e del pianeta. David aveva lanciato il progetto del Goodman Report nel 1985, mentre era ancora assunto all'università, addebitando ai piccoli investitori 175 dollari all'anno per ricevere un elenco mensile di azioni che potevano adattarsi al profilo iperprofitti. Ma presto si era reso conto che, per mantenere una piena indipendenza finanziaria, era necessario offrire i suoi servizi a clienti che potevano permettersi di pagare di più. Aveva quindi sviluppato delle liste di titoli azionari esclusivi che aveva chiamato Fortune Report. a riguardo offriva consulenze personali, addebitando 12.000 dollari a ogni cliente. Quando un numero sufficiente di potenziali clienti si iscrive alla newsletter, David Goodman rassegna le dimissioni. La vita di David si evolve anche grazie a un altro sviluppo, il suo quarto matrimonio nel 1984 sposa Glenda Francis Carson Warhide. Questa volta David ha davvero trovato la sua anima gemella. La famiglia di David attribuisce i suoi due precedenti matrimoni alla sua incapacità di rimanere da solo. Ma con Glenda è diverso. All'età di David ha già avuto un matrimonio e ha cresciuto tre figli suoi. La coppia condivide anche un'altra cosa, la devozione a Terry Hoffman. Eppure Glenda sembrava una candidata improbabile per il ruolo di discepola di una setta. Figlia di un radiologo di North Dallas, Glenda era una studentessa d'onore alla Hillcrest High School, dove presiedeva la squadra delle maggiorette e ricopriva il ruolo di tesoriere del consiglio studentesco. Trascorse un anno allo Sweet Briar College, frequentato da sole donne in Virginia. Altri due anni all'Università del Texas come membro della confraternita K-Alpha Theta. E infine si laureò all'Università della California Berkeley, con una specializzazione in arte. Nel 1964 torna a casa da Hill College durante l'estate, sposò un compagno delle scuole superiori. I suoi genitori organizzarono il ricevimento al Brookhaven Country Club. La sua vita matrimoniale iniziò a Beaumont, dove suo marito lavorava come ingegnere per la società petrolifera Texaco. Il matrimonio finì nove anni dopo, a Longo Beach, in California. Glenda ormai aveva tre figli. Tornò in Texas dove svolse svariati lavori, segretaria, contabile, consulente in un programma finalizzato a smettere di fumare e guadagnò soldi extra insegnando yoga e leggendo carte astrologiche. Con l'aiuto dei suoi genitori comprò una casa con due camere da letto a University Park. Glenda sperimentò tutte le difficoltà che spesso subentrano nella vita di una madre single. Era perennemente a corto di soldi. I suoi figli, per avere qualche entrata in più, accettavano lavori da svolgere dopo la scuola e nei fine settimana. Eppure, nonostante tutte queste esperienze, Glenda rimase una donna ingenua, facilmente influenzabile. Un gruppo di amiche della donna, tutte single e in cerca dell'amore, si rivolgeva alle chiromanti per delle consulenze. Lo trovavano divertente. Ma Glenda, unitasi a loro, prendeva sul serio le rivelazioni della chiromante. Cercava sempre risposte facili. Glenda era una di quelle persone che non si sentono mai bene, riferisce un amico. Era sempre alla ricerca di qualcosa che la facesse stare meglio. Molti dei suoi amici avevano già frequentato i corsi di meditazione di Terry. Un giorno Glenda si accoda e ne rimane subito affascinata. Ricorda una sua amica. Glenda pensava che tutto quello che diceva Terry fosse giusto e sacrosanto. David Goodman e Glenda cominciarono a frequentarsi durante l'estate del 1983. All'inizio dell'autunno, David iniziò già a pregarla di trasferirsi con lui. L'estate successiva, i due si sposarono con Terry, che eseguiva la cerimonia. Glenda disse ai suoi genitori, i quali a malapena sopportavano le sue passioni New Age, che lei e David erano stati sposati da un giudice di pace. Alice e Leonard Goodman erano felicissimi della scelta del figlio. Glenda sembrava così matura e premurosa. Sono davvero felice di far parte della famiglia Goodman, scrisse ai suoi nuovi suoceri. Vorrei solo aver incontrato David prima. Terry Hoffman aveva detto agli sposi novelli che erano già stati sposati in vite precedenti. La nuova vita di Glenda però non lasciava spazio ai bambini. Suo figlio viveva con il padre naturale, mentre le sue due figlie erano felicemente rimaste con lei. Ma David considerava le ragazze una distrazione. Era fondamentale che lui e Glenda si concentrassero esclusivamente l'uno sull'altro, sul loro lavoro e sul loro sviluppo spirituale. Quando Glenda si trasferì con David a metà semestre, rimosse le figlie dalla scuola. Prima di sposarsi aveva mandato le ragazze a vivere con il padre, che presto sarebbe stato trasferito da Houston a Singapore. Glenda e David imposero dei severi limiti anche per le visite. Le ragazze sarebbero state le benvenute soltanto per due settimane durante l'estate. I genitori di Glenda di fronte a questa notizia erano sconvolti. Lorraine Carson andò in chiesa e pregò per sua figlia. È stato devastante, disse in seguito. Fu allora che la vera Glenda morì. I nuovi termini del matrimonio di David, come le sue dimissioni dalla Southern Methodist University, lo liberarono da quegli obblighi banali che tanto disprezzava. Ora poteva fare ciò che riteneva opportuno, lavorare o meditare o pregare quando voleva, senza che nessuno gli facesse domande. Con Glenda al suo fianco, David incoraggiava la propria interpretazione della vita ideale promossa da Terry, iniziando il processo di rottura dei legami con coloro che erano al di fuori dello sviluppo consapevole. Anche i rapporti con coloro che ancora facevano parte del gruppo di insegnanti formato da Terry cominciarono ad affievolirsi. I seguaci più devoti di Terry non avevano come scopo la collaborazione tra loro. Alla fine, ogni vero credente forgia una propria unica relazione con la guru e segue il percorso nel proprio mondo soprannaturale. Robin Ottot iniziò prendendo il posto di Sandy Clever. Il consigliere scolastico di Dallas si assunse la responsabilità di riscrivere i corsi per corrispondenza al suo sviluppo consapevole. Quando la causa sulla proprietà di Sandy arrivò in giudizio, Robin testimoniò a favore di Terry. Robin aveva incontrato Terry nel 1974, due anni dopo il suo divorzio. Consulente per bambini in difficoltà aveva scritto il programma di cittadinanza del sistema scolastico progettato per educare alla responsabilità e indirizzare il processo decisionale. La sua stessa vita tuttavia venne dominata dagli insegnamenti di Terry. Terrorizzata dai signori neri, Robin riempì la sua casa a Highlands, in Texas, di cristalli protettivi. Come membro della fratellanza bianca partecipò alle battaglie rituali contro le forze del male. Sotto il suo letto Robin collocò speciali scudi protettivi, lunghi tubi di rame attorcigliati in strane forme serpentine. Ma l'influenza più strana di Terry su Robin prese un'altra forma, quasi umana potremmo dire. Infatti, Robin si convinse che stava uscendo con un agente invisibile della CIA. Nel 1986 Robin aveva una stretta relazione intima con un patriota soprannaturale di nome George G. La bizzarra storia d'amore è dettagliata nei diari, poi esaminati dagli investigatori, che Robin ha tenuto per anni. In quelle pagine Robin descrisse appuntamenti e cene romantiche, discorsi a cuore aperto, commoventi lettere d'amore, persino un viaggio in campeggio che lei e George G fecero in Colorado. Ma se era invisibile? Comunque. I seguaci dello sviluppo consapevole spiegano agli investigatori che Terry aveva parlato loro in modo non del tutto chiaro dei suoi contatti con la CIA. Affermava di aver addestrato alcuni agenti governativi a smaterializzarsi e di aver usato i suoi poteri per proteggerli. Proprio come i seguaci di Terry, gli agenti credevano in maestri che nessuno poteva vedere. Maestri che consideravano del tutto reali e Robin dunque aveva un amante invisibile. La coppia non avrebbe mai potuto sposarsi per motivi di sicurezza nazionale. È folle tutto ciò, è folle. È folle. Andiamo avanti. Verso la metà degli anni Ottanta, l'adesione di Robin agli insegnamenti di Terry l'allontanò dai suoi genitori. Sembrava quasi disinteressata a suo figlio, che allora frequentava il liceo. La sua intera vita girava intorno al ragazzo fino a quando non ha incontrato Terry Hoffman, dice uno dei migliori amici intimi di Robin. Poi tutta la sua vita ha preso a ruotare attorno a lei, ossia attorno a Terry. Robin si annoverava tra i seguaci dello sviluppo consapevole che aveva conquistato degli appezzamenti di terreno di montagna in Colorado. Richiedeva frequenti consultazioni a Terry Hoffman. Ma alla fine del 1986, nonostante tutta la terapia sostenuta, Robin inizia a mostrare segni di depressione. I suoi diari suggeriscono che i suoi corpi, non fisici, astrale, mentale e spirituale, si erano rivoltati contro di lei. Inizia a scrivere del suo essere spirituale come se fosse un'entità contraddittoria separata. Non voglio lavorare con la mia anima nel fisico, scrive. Successivamente i suoi corpi partono all'attacco aggredendo l'amica più intima di Terry e della stessa Robin, ossia Tamara Taylor, vicepresidente dell'agenzia pubblicitaria di Dallas di Boswell & Jacobs. La situazione è totalmente sfuggita al controllo di Robin. Sicuramente il suo comportamento è opera dei signori neri, ma gli amici dello sviluppo consapevole iniziano ad allontanarla. Ho deciso di smettere di parlare con te, scrive Tami a Robin nel marzo 1987. Ripensando alle numerose cose che mi sono successe, sono stata in grado di determinare che in molte occasioni ti ho parlato e ti ho fornito informazioni che sono state poi utilizzate contro di me dagli altri tuoi corpi, in seguito alla nostra telefonata. Stai affrontando un momento molto difficile, ma perché mi considerano un acerrimo nemico, non posso continuare a darti informazioni. Non ho intenzione di elencarti tutte le cose che sono andate storte, perché non voglio che i tuoi corpi sappiano dove e come hanno avuto successo. Spero che qualcun altro con cui non siano arrabbiati o di cui non siano gelosi sia in grado di parlarti e aiutarti ora. Con affetto, Tami. Tami Taylor invia alla guru Terry Hoffman una copia della sua lettera giovedì 2 aprile. Robin scrive a Terry una lettera in cui le chiede aiuto. Questa è una questione molto privata e importante, inizia Robin. Non voglio parlarla ad alta voce, a meno che non siamo obbligati a farlo. Martedì scorso, Martin mi ha detto telepaticamente che se fosse successo qualcosa a Tami, a causa delle mie energie, mi avrebbe ucciso. Voglio chiedere se non è già stato fatto che tutti i legami tra me e Tami, Martin, vengano tagliati se pensi che sarebbe una buona idea. Robin scarabocchiò in cima alla lettera, per favore dimmi se questa situazione si è verificata. Sembra davvero reale ed è molto importante per me avere una risposta. Cinque giorni dopo, Robin prova a supplicare Martin direttamente nel suo diario. Dato che tu e forse alcuni altri siete così decisi a uccidermi, vorrei dire alcune cose. Quello che i miei corpi hanno fatto è terribile. Robin è disperata. I signori neri la stanno consumando. I suoi corpi stanno impazzendo. Il 19 aprile chiama il suo ex marito e spiega di aver contratto una malattia terminale di epatite virale tramite una buccia di banana. Allarmato ma perplesso, l'uomo insiste affinché la sua ex moglie vada a fare gli esami medici adeguati. Fissa a lui stesso un appuntamento, infatti. Martedì 21 aprile Robin va all'appuntamento dal medico. Gli esami del sangue in seguito non mostreranno alcun segno di epatite o di qualsiasi altra malattia. Alcune ore dopo il prelievo di sangue, Robin fa visita a Terry Hoffman. Più tardi, quella notte, Robin, di 42 anni, torna a casa e si spari in bocca con una revolver calibro .38. Non lascio una nota formale, nemmeno una parola di addio a suo figlio, ma soltanto un messaggio criptico e scarabocchiato a mano destinato al suo consigliere spirituale. Chiedo scusa a Terry 3000 per, a settimana da parte di tutti i livelli del mio essere per i commenti altamente offensivi, sgarbati e volgari rivolti a lei la scorsa settimana. La amo teneramente e le chiedo perdono ogni giorno. Il testamento di Robin, scritto due mesi prima, lascia il suo terreno in Colorado, tutti i suoi gioielli, gli scritti e i file personali, le figurine, vestiti e immobili per la camera da letto a Terry Hoffman. Nella casa di Robin, tra i suoi effetti personali, gli amici scioccati scoprono un'insolita quantità di farmaci da prescrizione, oltre ad aghi e seringhe. Ma si imbattono anche in qualcos'altro. Robin aveva attaccato un foglietto bianco per le note sullo specchio del suo bagno, in modo da vederlo ogni mattina. Sulla carta, la donna ormai condannata aveva scritto una serie di affermazioni. Attira la luce, la mia luce, pura volontà, nega te stesso, depressione tranquilla. Vai avanti anche te, ora sono indietro, alzati dal letto, impara un modo completamente nuovo di essere. Spingiti attraverso il dolore, non l'ho fatto io, parte di me l'hanno fatto. Vai avanti per Terry, per i maestri. Voglio ancora lavorare con i maestri. Non devo lasciare che quegli stronzi mi buttino giù. Cosa avrà voluto dire? Boh. Tornando ai Goodman, quando Leonard e Alice vanno a trovare il figlio David e la sua quarta moglie, Dallas, rimangono sbalorditi dalla dipendenza di David, dal suo consigliere spirituale. David parla soltanto di Terry. Anche mentre Leonard e Alice sono ospiti in casa sua, David è costantemente al telefono con Terry. Li chiede consiglio, anche prima di prendere la decisione più banale. Alice non riesce a frenare la lingua. David era depresso nel 1973, ed eccolo qui dopo oltre un decennio di psicoterapia più dipendente che mai dalla guru. Non ho molto rispetto per le persone che non riescono a risolvere i propri problemi, dice Alice a suo figlio. Poi aggiunge, sei un tipo piuttosto intelligente, perché devi correre da lei? David fissa a sua madre. Era sotto shock, come se avessi bestemmiato, ricorda Alice. Come se avesse paura che Terry potesse sentire ciò che avevo detto e farmi qualcosa. Non avevo mai visto uno sguardo più spaventato sul viso di nessuno. I Goodman hanno anche altri motivi per essere scettici nei confronti della guru del figlio. Quando il fratello di David, Mark, si era ammalato di colite, Terry aveva annunciato che soffriva di cancro, ma lei lo aveva curato, probabilmente telepaticamente. In un'altra occasione, Terry aveva detto ad Alice che era affetta da calcoli biliari, un problema che nessun medico sarebbe stato in grado di risolvere. Ai semplici medici mancavano i poteri di Terry. Ha detto che poteva vedere attraverso il mio corpo, racconta la signora Goodman. Per i vicini, David e Glenda Goodman sono una coppia simpatica e tranquilla, che rivolge convenevoli a tutti coloro che incontra durante le passeggiate quotidiane. Alcuni sanno che Glenda vende fragranze che faceva la segretaria per il marito, aiutandolo a gestire la sua attività di consulenza sugli investimenti. Ma nessuno è a conoscenza del fatto che i coniugi dedichino gran parte della loro vita a fantastiche avventure spirituali che Glenda racconta con cura nei diari. Gli scritti che lei e David lasciano permettono agli investigatori di ripercorrere le tappe del loro strano e tragico viaggio. Ogni mattina David e Glenda si svegliavano presto per chiedere a Dio e ai maestri di trasmettere loro le buone energie di cui avrebbero avuto bisogno durante la giornata. Quella era solo la prima di numerose meditazioni quotidiane che si svolgevano mattina, pomeriggio e notte. A volte duravano per ore. I Goodman parlavano al cielo, ad alta voce, cercando e ricevendo una guida esplicita per affrontare ogni tipo di domanda sulla vita. Le nostre istruzioni relative agli ultimi due giorni circa ci sono giunte come una percezione della voce di Dio che ci parla dall'interno, scrisse Glenda, che sentiva le voci meglio di David nel giugno del 1988. Ci ha detto che parla a tutti e ci dà consigli minuto per minuto. Era stato loro ordinato di cedere tutto il controllo a Dio, di includerlo in ogni piccola decisione, non importa quanto piccola, scrisse ancora Glenda. Dio aveva aiutato David a prevedere il mercato azionario e migliorare la vita amorosa sua e di sua moglie. Dio arriva persino ad aiutare i coniugi nell'atletica. Quando Glenda aveva deciso di avviare un progetto di ristrutturazione, si era rivolta naturalmente a Marcus, uno dei maestri, per le istruzioni sulle tende. Verrò con te da Sears e da Montgomery Ward per visionare e scegliere i giusti rivestimenti per le finestre, rispose Marcus, secondo il diario. Ascoltami semplicemente e faremo la cosa giusta. Le meditazioni si accompagnavano all'assunzione di pilole bianche, ossia misteriose capsule non identificate che Terry forniva loro. E molte delle istruzioni di Dio che servivano a testare il loro impegno spirituale prevedevano di destinare a Terry dei doni terreni. Stiamo pianificando una sorpresa molto speciale per Terry e Don, scrisse Glenda, l'ultima volta che abbiamo usato le pillole ci è stata suggerita questa idea. I maestri, in particolare Terry, mi hanno fatto il dono speciale di porre il mio spirito totalmente e permanentemente nel mio corpo. A quel tempo dissero a David che gli avrebbero concesso totalmente il suo spirito non appena avesse superato la sua prossima prova, concernente l'esborso di soldi. Dissero a David di acquistare per Terry un'auto nuova di zecca, una Lincoln Continental del 1988. Sarebbero stati i maestri a indicare da quale rivenditore andare. David doveva pagare per effettuare dei lavori di espansione della vecchia casa in affitto con due camere da letto di Glenda, destinata a diventare un regalo per Terry. David fece a Terry anche un regalo simbolico di 5.000 dollari più le pillole a nome di tutta l'umanità in segno di apprezzamento per tutto ciò che aveva fatto. In un'altra occasione Glenda scrisse David offre a Terry tutto il denaro di cui ha bisogno per essere libera. Lei piange. Si era impegnato a dare a Terry il 50% di tutto. Sempre. I registri degli assegni dei Goodman indicano quanto seriamente avessero preso quell'impegno. Durante il 1987 e il 1988, attingendo al reddito ricavato dalla nuova attività di David, avevano donato più di 110.000 dollari a Terry Hoffman. Parte del denaro passava di mano in mano, in piccole somme, 50 dollari o 100 dollari, come contributo per le sessioni di consulenza, ma i Goodman fecero anche dei regali individuali fino a 40.000 dollari. Le meditazioni e i doni, in cambio, avevano prodotto una serie di rivelazioni. Una di queste sopraggiunse di domenica alle 5 del mattino. Ci è stato detto che siamo Adamo e Eva, abbiamo portato il peccato originale in questa creazione. Glenda apprese che avevano vissuto 800.000 vite precedenti e furono informati dalle loro nuove identità spirituali, come gli dei romani venere e giove. Non sei più David Goodman, figlio di Alice e Leonard, dichiarò la voce di Dio in base a quanto trascrisse Glenda. Quella persona se n'è andata perché i suoi programmi sono stati completamente cancellati. Con l'aiuto di Terry, di uno dei maestri e delle pillole bianche, i Goodman ricevettero previsioni allettanti di ciò che li attendeva oltre il regno fisico. Terry e Marcus hanno preso per mano Giove e Venere, ovvero noi, e ci hanno condotto in una bellissima casa scintillante nel regno purpureo. Era casa nostra. Terry ci ha portato tutti in città, una città di cristallo con molti edifici grandi e belli, ma pochissime persone. La maggior parte si trova ancora nei regni inferiori. I diari suggeriscono che Terry stesse soffrendo orribilmente. Doveva sopportare, pur senza alcuna colpa, la punizione per i peccati degli altri, ad esempio quelli di suo marito. Don Hoffman, istruito da Terry, non aveva trovato molti clienti grazie alla pratica della manipolazione del corpo e ai massaggi. Inoltre, sebbene avesse solo 50 anni, Don soffriva di un misterioso assortimento di disturbi fisici come dolore alle gambe e affaticamento del respiro, che gli rendevano difficile percorrere lunghe distanze mentre era in campeggio con Terry in Colorado. Le voci riportate nel diario dei Goodman nel 1988 suggeriscono chiaramente che il marito della guru era caduto in disgrazia. Domenica 19 giugno, giornata di giustizia per tutti. Terry si avvicina e prende una nuova pillola per noi. Don ha lasciato sprofondare la sua coscienza. Dio fa infuriare David per il cattivo trattamento riservato da Don a Terry. David chiede a Dio di portare giustizia a Don. Non inviare un cattivo karma. Inviare soltanto il karma che merita. Lo scenario della morte di Richard Donald Hoffman non avrebbe potuto essere più tranquillo. Una cameriera lo aveva scoperto verso le otto e mezza del mattino nella sua stanza presso un lussuoso hotel, completamente vestito. Indossava un paio di jeans e una maglietta a maniche corte. Era sdraiato sul letto a faccia in su con i piedi che toccavano il pavimento. L'uomo le era sembrato così tranquillo che la cameriera non si era insospettita fino a quando nell'arco della mattinata non era tornata diverse volte e aveva notato che l'ospite non si era mai mosso da quella posizione. La polizia di Irving arrivò verso l'una e mezza del pomeriggio e trovò il corpo di Don rigido e freddo. Su un comodino di marmo c'erano un piccolo registratore, un blocnotice, una penna e una pila ordinata di capsule di Benadryl contenute in bustine di alluminio. Un foglio di cancelleria dell'hotel riportava La mia macchina è nel parcheggio numero 136 firmato R.D. Hoffman. Sul blocco c'era un biglietto d'addio di tre pagine. Vi era scritto La scena del suicidio presentava agghiaccianti somiglianze con la morte avvenuta più di undici anni prima di Glenn Coley, il secondo marito di Terry. Un'autopsia confermò che Don era morto per un'intossicazione da sostanze miste. Aveva ingerito sette tipi di pillole antidepressivi, antidolorifici e sonniferi in quantità letali. Ma dall'autopsia emerse anche qualcosa di sorprendente. Non c'era assolutamente alcuna evidenza del cancro. Terry disse alla polizia che Don aveva problemi di respirazione da sei mesi ma che non era a conoscenza della sua diagnosi. Quindi immaginava di avere il cancro. Riferì che lo aveva interrogato su alcune pillole che assumeva e Don gli aveva detto che le aveva prese dal suo medico. Ma era improbabile che un medico avesse fornito la sostanza rilevata nel corpo di Don nella massima concentrazione, ossia l'MDMA, che è una sostanza illegale. Prima di lasciare la casa di Terry per dirigersi in hotel, Don aveva filmato tre videomessaggi diversi per motivare il suo suicidio. Uno per ciascuno dei suoi due figli e il terzo per i suoi fratelli e sorelle. Nelle registrazioni praticamente identiche, Don sosteneva, anche se non era vero, di essere gravemente malato. Sembrava convinto della sua finzione. Ormai sono sicuro che avete sentito della mia morte, iniziò Don con la voce rotta dal pianto. Tra i medici gli avevano detto che aveva un cancro terminale. Non identificava i dottori sostenendo che avevano distrutto le sue cartelle cliniche, cosa che nessun medico rispettabile avrebbe mai fatto. Aiutate tutti, Terry il più possibile, gli esortava Don. Il suo cuore è un po' debole, qualsiasi stress o pressione esercitata su di lei in questo momento, aggraverebbe davvero le sue condizioni. Don raccomandava alla sua famiglia di non soffrire troppo a lungo, dicendo, la morte è solo un passaggio da una vita all'altra. 19 giorni dopo la scoperta del cadavere di Don Hoffman, suo figlio Rick chiama la matrigna per parlare di quello che era successo. La moglie di Rick, Sandy, cerca di approfondire il discorso su questa presunta metastasi. Profondamente sospettosi degli eventi che circondano la morte di Don, i due registrano segretamente la conversazione. Terry li informa subito di aver parlato con Don dopo la sua scomparsa. Ha pianto, spiega, e ha detto che è libero dal dolore. Rick e Sandy vogliono sapere se Don avesse spiegato perché pensava di essere un malato terminale. Questo dottore gli ha detto che aveva il cancro, riferisce Terry. Questa questione è davvero pazzesca. Non la capisco ancora, devo parlargli ancora un po'. Terry sostiene che Don le aveva detto che i dottori avrebbero nascosto tutti i documenti e se ne sarebbero sbarazzati. Di nuovo, cosa impossibile. Aggiunge che Don si era rifiutato di identificare i medici e aveva distrutto ogni prescrizione che aveva. Anche qui, ritengo sia poco probabile. Poi Terry inizia a singhiozzare. E qui, lasciatemi dire, bravissima attrice. Per la prima volta in tutta la vita, rivela, ho pensato al suicidio. Ottima attrice. Perché l'autopsia di Don non aveva rilevato segni della malattia, quindi? Terry dice di aver parlato di quell'argomento con Caltù, uno dei maestri. Quello che ha detto Caltù è stato questo, spiega Terry. Ha detto che quello che Don aveva era sicuramente il cancro. Ha detto che i signori neri stavano cercando di creare un'illusione in modo che il medico legale non trovasse tracce del cancro. Così ci avrebbero fatto ancora più male. Ma non stanno in cielo né in terra. Potrebbe farlo, Rick, insiste Terry. Caltù ha detto che i signori neri potrebbero aver creato quest'illusione. Eh, certo Terry, i signori neri, eh? Terry dice a Rick e Sandy che li ama tantissimo. Si offre di regalare loro un appezzamento di terreno che possiede in Colorado, in modo che possano costruire lì una casa per le vacanze. Ero così arrabbiata con i dottori e con quei signori neri, si rigidisce Terry. Sarei pronta a uscire e uccidere ognuno di quei signori neri, se potessi. Signori neri che non esistono. Ma Terry, sfruttando i suoi poteri, potrebbe riuscire a identificare i medici che hanno curato Don, controllando psichicamente i registri akashi. Cioè le memorie che contengono tutta l'esperienza di vita di ogni cosa e di ogni essere vivente. Anche questa mi sembra una supercazzola. Terry promette che ci avrebbe provato, ma questa volta i suoi poteri falliscono. Oddio, che cosa è successo? Non è in grado di rivelare chi avesse convinto suo marito che soffriva di un cancro terminale, perché probabilmente era lei ad aver convinto suo marito di ciò. 19 aprile 1989, gli avvocati depositano il testamento di Don presso il tribunale di successione della Contea di Dallas. Ha lasciato tutte le sue proprietà e tutti i suoi possedimenti alla sua vedova, Terry Hoffman. Ma è successo prima, no? Tornando ancora ai Goodman, per loro le cose nel frattempo stanno iniziando a peggiorare nel regno fisico. Nell'autunno del 1988, David e Glenda iniziano a preoccuparsi delle energie negative che stanno prosciugando i poteri della coppia, rallentando la loro evoluzione spirituale. Le maggiori fonti di energia negativa sono le loro stesse famiglie. David affronta il problema inviando una lettera ai suoi genitori in cui annuncia sommariamente che non può più comunicare con loro. Non dovranno mai preoccuparsi di chiamare o scrivere perché non risponderebbe. David invia una lettera simile anche a suo figlio di 26 anni, Rick, che vive a Boston. Quando arriva Natale, però, David e Glenda cedono per un breve periodo. Si scambiano i regali con i genitori di lui e si comportano come se niente fosse successo. Ma a febbraio, David decide di troncare tutti i legami di nuovo. Quando i suoi genitori gli chiedono perché sia necessario adottare misure così dure, David risponde che, se si fossero semplicemente fidati di lui, le cose sarebbero migliorate per tutti, molto più velocemente. Glenda, invece, mantiene i contatti con le sue figlie per tutta la primavera. Entrambe le ragazze sono coinvolte in viaggi spirituali propri, cercando di parlare con Dio e i maestri, preoccupandosi del karma e prendendo le pillole bianche fornite da Terry per la meditazione. Tuttavia, la ricerca di elevazione spirituale di David e Glenda non sta procedendo agevolmente. David supera una prova dopo l'altra, aprendo il suo libro degli assegni, ma ancora non raggiungi i poteri misteriosi che Dio e Terry e i maestri avevano provesso. Cioè, piene energie e capacità, i mezzi per vedere e ascoltare perfettamente Dio e i maestri, il potere che Terry possedeva, di compiere un balzo tra il regno fisico e quello spirituale e viceversa, ogni volta che voleva. Al contrario, David è in preda a un cattivo karma e sembra provare dolore sia psichico che fisico. Il diario contiene riferimenti da cui si evince che è costretto a letto. Dio non sento di poter continuare, scrive. Dio ci lascerai soli, bloccati in questo brutto stato. Mi hai reso uno stupido debole. All'inizio di maggio, Glenda intercede. Marcus, Terry, Cristo, scrive. Per favore, spiegatemi e fatemi capire perché siamo stati trattati così crudelmente per tutti questi anni. E soprattutto ora, alla fine. Ma c'è altra sofferenza da sopportare. Non vedi che non ce la facciamo più? David si lamenta con Dio. Perché non puoi darci le nostre vere energie? Devi spegnere il desiderio per le tue vere energie. Questa è la risposta come registrato nel diario dei Goodman. Ti aiuterò in questo se seguirai le mie istruzioni alla lettera. Non importa quanto possano essere ridicole. Non c'è speranza, ribatte David. Non c'è niente per cui valga la pena vivere. C'è solo un Dio che ci tortura all'infinito. Il 12 giugno 1989 David e Glenda acquistano una pistola semiautomatica, una scatola di proiettili e alcuni bersagli da allenamento da un negozio di armi di Dallas chiamato Guns Inc. Seguendo le istruzioni di Dio avevano iniziato a compiere dei pellegrinaggi diretti alla fattoria dei genitori di Glenda a Frisco per esercitarsi nel tiro. La tristezza per un destino inevitabile si insinua nelle pagine seguenti nel diario. David e Glenda sono simili a Cristo, sopportano il cattivo karma dell'umanità. Alla fine sono pronti per ottenere le loro vere energie ma li attende un'ultima prova. David e Glenda devono eliminare l'ultimo dei loro parenti dalle loro vite. Lorraine Carson che disapprova l'esplorazione spirituale di sua figlia sta sottrando le buone energie di Glenda spiega Dio. Dio dunque incarica Glenda di rimproverarla e allontanarla. Glenda deve riconsegnare a sua madre di 72 anni tutta l'animosità, il risentimento e l'odio che ha evocato in lei. Quando quel compito verrà portato a termine, promette Dio, potrai essere felice. Il 21 settembre 1989 David e Glenda portano i Carson a cena fuori al ristorante Campisi in Monkbird Lane. Great Badbeck, una donna norvegese che aveva vissuto con i Carson, una studentessa aderente al progetto di scambio del liceo frequentato da Glenda, torna per la trentesima riunione della classe e si accoda. È il primo giro dei Carson sulla nuova Cadillac Seville azzurro polvere di David che l'aveva comprata per la cifra di 29.000 dollari corrisposti in contanti un mese prima, apparentemente con l'intenzione di donarla a Terry. La mattina dopo Glenda e David fanno irruzione nell'appartamento dei Carson. Devi pregare per te stessa, dice Glenda a sua madre infuriata. Smettila di provare a comprare l'amore delle persone con il cibo. Si riferisce ai biscotti che Lorraine aveva donato a Greta in vista della sua ripartenza per la Norvegia. Lei e David non avranno più nienti a che fare con i Carson, annuncia Glenda indignata. Dice ai suoi anziani genitori che stanno prosciugando tutte le sue energie. Glenda si dirige verso la porta. David la tiene aperta per lasciar passare sua moglie. Poi la sbatte in faccia Lorraine Carson. I coniugi Carson si guardano l'un l'altro con stupore. Sono pazzi, dice il padre di Glenda. Con il completamento di questo compito, Dio annuncia nel diario dei Goodman la via è libera per ottenere elevate energie. È così. State per essere uniti in un matrimonio tra il vostro io fisico e il vostro spirito. Tutto è pronto. La data è fissata per il 20 ottobre. Il 19 ottobre Glenda Goodman invia delle lettere alle sue due figlie anticipando che avrebbe dovuto interrompere tutte le comunicazioni con loro. Glenda inizia a scrivere una lettera ben diversa destinata al figlio che frequenta la scuola di specializzazione a Chicago. Sono estremamente depressa in questo momento e vorrei avere il coraggio di uccidermi ma non lo riesco a trovare questo coraggio. La guru Therese intanto spiega l'unione tra il tuo fisico e il tuo spirito è imminente. Non cedere alle bugie che cercano sul fatto che non otterrai il tuo spirito. Possono fermarti distruggendo la tua fede. Ignora tutti questi sintomi di negatività. Fai la doccia, pulisci, cammina, tieni la mente occupata e, cosa più importante, nega di avere qualsiasi interferenza. Mantieni la fede e presto otterrai il tuo spirito. La tua coscienza può superare tutto questo se non ti arrendi. Non ci sarà scampo per i Goodman. Il 3 marzo 1989 Rick, il figlio di Hoffman, menzionato prima, e sua sorella Janet, intentano una causa contro la loro matrigna. Terry Hoffman. L'accusano dell'ingiusta morte di Don Hoffman che Terry aveva indotto al suicidio attraverso tecniche di controllo mentale così come l'ipnosi, la modificazione del comportamento, il controllo delle informazioni e la manipolazione delle emozioni. Sette settimane dopo intentano una seconda causa cercando di ribaltare il lascito del padre che attribuiva tutto ciò che possedeva a Terry Hoffman. L'avvocato James Barclow rappresenta i figli di Don Hoffman. Mentre il processo si trascina, Barclow decide di intraprendere la sua ricerca personale. ispeziona la spazzatura di Terry. La spazzatura che proviene dalla casa della guru spirituale include dozzine di aghe e siringhe, tamponi di cotone e abbastanza flacone di pillole ormai vuoti che potrebbero rifornire una farmacia. Barclow inoltre scopre una lettera inviata a Terry da un uomo di nome Peter proveniente da San Diego. Apparentemente quella lettera accompagnava un pacco. Ecco il tuo ordine all'ingrosso più i campioni. Il numero 1 è una nuova formula un po' più complessa e costerà 35 centesimi in più per capsula. Dovrebbe contenere più anfetamine e un equilibratore per neutralizzare gli effetti negativi. Numero 2 è la formula E di base senza l'ultimo passaggio eseguito nella purificazione per rimuovere tutte le anfetamine. La lettera e gli accessori recuperati spingono l'ufficio del procuratore distrettuale a concentrare le indagini sull'uso illecito di sostanze da parte di Terry. L'assistente del procuratore distrettuale Cecil Emerson che dirige le indagini crede che la guru spirituale con l'aiuto di alcuni medici abbia distribuito illegalmente le pillole e fatto delle iniezioni. Terry le definisce colpi vitaminici. Carl Emerson nota dei riferimenti nel diario dei Goodman a delle pillole bianche il cui contenuto rimane indeterminato e alla morte di Glenn Cooley e Don Hoffman per overdose. Ma non è finita qui. I sospetti aumentano anche perché nel 1986 il figlio di David Goodman Tony che riconosce di avere un'amicizia di lunga data con Terry era stato arrestato per possesso di sostanze. Si era dichiarato colpevole ed era stato posto in libertà vigilata. Un seguace di Hoffman rivela che Terry in diverse occasioni gli aveva praticato delle iniezioni ai glutei. Le accuse di omicidio certo sono un'altra storia oppure c'è da chiedersi Terry sotto le spoglie di Dio ha dato a David, Glenda e ad altri seguaci l'ordine di togliersi la vita? Oppure ha semplicemente contribuito a creare un ambiente in cui la morte era insignificante o persino attraente? Forse è stato un doppio suicidio dice il padre di David Leonard Goodman ma una parola di Terry l'avrebbe fermato. Mentre l'indagine penale continua non emergono prove dirette che Terry abbia mai incaricato qualcuno di togliersi la vita. Si trattava soltanto di un terribile schema. Il detective dell'omicidio di Dallas Chuck Hudson che aveva indagato sul caso prima di consegnarlo al procuratore distrettuale è scettico sulla prospettiva di accusare qualcuno di omicidio ma per coloro che hanno amato le vittime dello sviluppo consapevole le valutazioni sulle evidenze non emerse e l'assenza di prove non scaggiorano la guru. Leonard Goodman è certo di una cosa se mio figlio non fosse stato coinvolto con Terry Hoffman oggi sarebbe vivo così sarebbero molte altre persone. Terry dichiara banca rotta nell'ottobre 1991 e viene condannata a 16 mesi di prigione per 10 capi di imputazione per frode fallimentare nel maggio 1994. Viene rilasciata dopo aver scontato un anno di reclusione. Terry in seguito sposa Roger Kenley e cambia il suo nome in Terry Lila Kenley apre un sito web promuovendo la sua esperienza e i suoi numerosi talenti e scrive un libro che ha ad oggetto la consulenza finanziaria muore il 31 ottobre 2015 a 77 anni raga io ho finito di parlare in questo video lunghissimo e anche a tratti non a tratti totalmente assurdo non so come sia riuscita a parlare per un'ora e mezza di questa cosa vi giuro ci ho messo a tutta me stessa però mi ha davvero intrippato un sacco questo caso fatemi sapere se lo conoscevate o che cosa ne pensate perché qua si sta parlando di una setta chiaramente è una setta in tutto e per tutto quindi fatemi sapere cosa ne pensate quali sono le vostre opinioni su questo caso come al solito ci pecchiamo nei commenti qui sotto io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti